E' un tema molto importante, sicuramente la discussione odierna sarà ricca di contributi che costituiranno poi parte fondante della nuova programmazione. Il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale è strategico ed è fondamentale per le buone risultanze in agricoltura. Non esiste un'agricoltura sana e competitiva se non è sviluppata e creata in un ambiente favorevole e quindi nel rispetto totale di tutte le regole dell'ambiente e della salubrità fisica. Noi ovviamente stiamo lavorando per dare anche il nostro contributo al New Deal europeo e al Green Deal europeo per cui dobbiamo necessariamente puntare su un'agricoltura sostenibile. In questo territorio non è casuale la scelta di questo tema perché è un territorio che è stato interessato in passato da particolari problematiche, tipo quella della terra dei fuochi che abbiamo combattuto e superato con una serie di indagini e di verifiche che hanno sgombrato il campo da cattiva informazione. E quindi il rilancio di questo territorio deve partire sicuramente dalla scelta di puntare sulla sostenibilità ambientale. Grazie a tutti.